Due ricorrenze che si uniscono possono solo creare una grande e sentita festa. E così è stato per tutti i partecipanti al 25esimo anniversario della nascita del Circolo Gaglianese del Nord Italia. Una ricca giornata, quella di domenica 4 giugno, che ha visto coinvolti non solo gli amici e gli stretti collaboratori del Circolo, ma anche tutti i familiari e i devoti a San Cataldo, il santo di Gagliano Castelferrato. 25 anni di attività ricordate e celebrate alla presenza dell'Enrique del Santo per la prima volta in viaggio verso il Nord. Una celebrazione commovente e arricchita dalle parole di Don Pietro Antonio Ruggero, arciprete di Gagliano Castelferrato. L'importanza dell'evento è stata sottolineata da il notevole radunarsi di persone presso il santuario della Madonna del Rosario in Garbagnate milanese. Lo stesso sentimento di sincera affezione ha unito tutti i partecipanti nel ricordare Angelo Valenti e Angela Corazza, Valenti nel loro anniversario della morte. Il loro lavoro solidale sul territorio di Garbagnate non è mai stato dimenticato. Sono gli stessi ragazzi del 1957 rappresentati dalla famiglia Girina di Milano e dalle comunità di Garbagnate e di Aggira, dalla Fasi e dai siciliani a onorarli con delle corone di fiori presso il cimitero della città. Terminate le celebrazioni ufficiali, molti dei presenti hanno continuato la giornata di festa presso il ristorante 111 di Bollate. Stare insieme a tavola con vecchi amici e tanti ricordi che uniscono tutti i gaglianesi, un ballo, una risata, una lotteria di premi, dell'ottimo cibo, semplici modi per divertirsi e festeggiare. E poi nuovi ricordi e nuovi ringraziamenti. Un piccolo dono per tutte le autorità presenti, per il sindaco Salvatore Zappulla, per Don Pietro Antonio Ruggero e per i rappresentanti della Fasi.